IFS ti permette di scegliere tra più di 20 ruoli e compiti che potrai svolgere e ti permettono di approfondire conoscenze e competenze che ti saranno utili per il tuo sviluppo personale e professionale. Gli ambiti di attività sono molteplici e spaziano dall'animazione di campi per gli studenti, all'accompagnamento e al coaching dei partecipanti, all'accoglienza degli studenti all'ora arriva all'aeroporto in Svizzera, i colloqui di selezione, l'organizzazione di eventi, la promozione dei programmi IFS e tutto questo avviene soprattutto in uno dei 20 centri locali presenti in tutta la Svizzera. Nei video seguenti saranno approfondite alcuni di questi ruoli e compiti. La formazione continua è uno dei prerogativi di IFS, sia in quanto formatore o anche partecipando ai nostri workshop e trainings anche internazionali avrai la possibilità di approfondire conoscenze nell'ambito della comunicazione interculturale ma anche entrare in contatto con metodi didattici, pedagogici, innovativi basati sull'apprendimento esperienziale. IFS è un grande laboratorio di idee, di progetti e iniziative che vengono portate avanti da tutta la rete di volontari. Un esempio fra altri è il gruppo Queer AFS, un gruppo di volontari che da due anni si è prefisso, si è posto come obiettivo quello di sensibilizzare l'intera organizzazione ai temi queer. Collaborare con IFS come volontario significa poter conoscere nuove persone provenienti da tutta la maggior parte degli angoli del mondo, costruire nuove amicizie, scoprire nuove realtà e nuovi modi di pensare. Collaborare con IFS significa anche acquisire nuove competenze e conoscenze che sono molto importanti per il tuo cammino personale e professionale. IFS mette a disposizione il dossier volontariato, un certificato che attesta tutte le competenze e conoscenze acquisite durante la tua attività volontaria. Inoltre per i più giovani, per quelli fino ai 30 anni, c'è a disposizione il congedo giovanile. La rete di volontari in Svizzera è piuttosto ampia, si calcola tra le 800 e le 1000 persone, dunque la comunicazione è molto importante. Puoi accedere ad aggiornamenti e novità su eventi e manifestazioni presso IFS Svizzera, ma anche a livello internazionale, attraverso la piattaforma Intranet Workplace, il Volunteer Cockpit e sarai aggiornato con una newsletter periodicamente. Inoltre, per facilitare e rendere piacevole la tua collaborazione con IFS, mettiamo a disposizione un'infrastruttura digitale professionale e l'ufficio IFS è raggiungibile 24 ore su 24 attraverso un servizio di picchetto. Quindi non sarai mai, mai solo.